C'è un arredo urbano, si fa anche per riprogettare una città, si fanno delle cose piccole, vanno tolte le cose che non c'entrano niente, sono altrettanto importanti, io infatti dicevo queste panchine non hanno niente, non c'entrano niente con l'ambiente circostante, esiste un piano del decoro del Comune fatto nel 1900 che stabiliva già i colori, il tipo di panchine, i canoni, siamo in questo ambiente qua, basta riprodurre questo, io sono modernista, però bisogna, certe cose devono conservare, non bisogna stravolgere. Poi è un punto storico questo qua. E questo qui è il punto storico, magari riutilizzarle per qualcos'altro. Tu le puoi attrezzare per qualcos'altro, perché queste cose qua tu le potresti mettere da qualsiasi parte, non hanno nessuna attinenza al luogo. Ma non la loro valenza. Ma certo, in altre cose possono andare bene. I centri di raccomandamento non ce ne sono tanti, io vedo che la gente qui si ferma volentieri, i bambini, i bambini e giocano. Ma qua deve essere assolutamente mantenuto, anche l'arredo urbano assolutamente fa parte della vivibilità, della vivibilità della città. Ma io guarda, le cose che mi devono impegnare, praticamente il motivo principale è proprio quello all'interno di un'amministrazione di spingerle verso certe scelte e non farle fare delle scelte sbagliate. Queste cose qui non so perché siano anni che non venga risolto. insomma, è possibile, ma è possibile che quella, quel muro, c'è una cosa indecente. Da bambino, è un muro, io messo un muro, ma è finita la guerra, da allora è sempre mia. Non ci crede più nessuno che sono stati bambini, anche loro. Mi ci metto anch'io. Complimenti, speriamo di poter fare qualcosa di positivo. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.